A lanciare l'allarme era stata col diretti, mentre il sud è bloccato dalle bufere di neve, al nord cresce la siccità con il livello del posto di 3,5 metri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il monitoraggio effettuato la settimana scorsa al ponte della Becca, Pavia, sullo stato del più grande fiume italiano, purtroppo viene confermato dalle nuove rilevazioni. A Cremona, ad esempio, nella giornata di oggi siamo a meno 6,53 sotto lo zero idrometrico. L'autorità di Baccino, sentinella del grande fiume, parla di una magra invernale seria, ma al momento non dà emergenza grave, sebbene i numeri parlino di una portata d'acqua al di sotto della media rispetto al mese di gennaio. A pesare sono le mancate precipitazioni. Al nord praticamente non piove e non nevica dall'inizio dell'inverno e gli effetti si fanno sentire con il ripetersi di incendi boschivi fuori stagione, mentre cresce l'allarme dagli agricoltori per la mancanza di acqua necessaria a creare le riserve idriche per i prossimi mesi. Già, perché se ora con le attività agricole praticamente poco attive la mancanza d'acqua può essere gestita, si pensa all'estate quando si dovrà fare i conti con l'assenza di neve sui monti che potrebbe creare crisi idriche rilevanti. Ma c'è ancora tempo, si spera, nelle nevicate di febbraio e marzo.